allora intanto saluto tutti quelli che stanno entrando saluto i miei amici che stanno entrando un bacio a tutti aspettiamo cinque minuti intanto vi scrivo la canzone e ve la inizio a far sentire e ve la metto così sentite un po' la canzone un po' la canzone aspetta il telefono aspettiamo due minuti la canzone la canzone la canzone la canzone la canzone la canzone aspettiamo due minuti allora iniziamo a spiegare magari allora il mondo della coreografia è molto molto interiore molto intimo la canzone porta a questo mood mentale un po' più intimo il pezzo è montato sulle parole quindi è molto va molto liscio e spero vi piaccia tutto quanto lo stile che andremo a fare oggi è un modern e contemporary quindi c'è tecnica però c'è ci sono dei blocchi è molto lavorato sul corpo quindi possiamo iniziare a spiegare e inizio a spiegare facendovi sentire la parte iniziale perché la coreografia inizia da qui girati di un parallelo in diagonale quello che sia è molto una posizione molto naturale quindi i piedi alla seconda anderanno siete girati verso dietro perché visto che la diretta è specchiata questo è il mio braccio destro c'è un dopo il pianoforte dopo l'ultimo riff di pianoforte c'è un tipo doom e fa tipo doom si gira tipo solo il busto e sarebbe questo quello là allora dopo di questo dopo questo boom il pianoforte la canzone dice I'm a flame e è sinistra a destra quindi boom boom e cresce è doom I'm a flame parte dalle gambe ed è boom I'm a flame poi dice you're apre you're a fire e affondate molto quindi you're a fire affondate e when the darkness è come se fosse una una quinta chiudete questo su the new tipo quinta mid cadete in seconda of light è relevé sinistro che scaccia a destra quindi relevé scaccia a destra light su light è tipo un pugno come se lo andasse a a come se dovessi raggiungere questa luce in cui parla la canzone quindi è boom I'm a flame you're a fire I'm a darkness need of light poi fa when we touch when we touch è come se fosse dal relevé vediamo se ci sono qualche se c'è qualche incomprensione ok allora vado vado allora c'è light voi comunque scrivete sotto che io ogni tanto vado a leggere scrivete se c'è qualche cosa che dovevi fare light da qui scende a destra e scaccia a sinistra quindi scende destra e scaccia a sinistra when we touch dice you're inspired da qua è come se fosse un round però parte col piede and down quindi è come se fosse così e you're inspired gira solo col braccio sinistro inspire è questo questo colpo che si dà alle tempie you're inspired when you change si si chiude tipo in una terza da qua c'è un round c'è un grande round un change with me c'è questo round grande me va dietro e tonight e poi fa tum tum tonight ci sono due giri in altitude che poi cadono davanti quindi adesso rifacciamo quindi boom i'm a flame you're a fire i'm a darkness need of light when we touch you're inspired when you change with me tonight ok vediamo se devo andare più lento allora with me tonight c'è questo doppio giro da qua fa so take me up take me up va giù take me up qui take me higher è un tilt in the way quindi è take me up take me higher è un tilt con questo round che va sarebbe questo da qui c'è un round ve lo faccio sentire in musica fino ad adesso e così di la ventina doom i'm a flame you're a fire i'm a dark you need to bite when we touch you inspire feel the change in me tonight so take me up so take me up take me higher there's a world no for me questo se l'avete sentito questo take me up è dal doppio giro e poi questo deve secondo altitude voi è come se mh incalaste qualcosa quindi boom tfu take me up e da qua c'è questo tilt con il round vediamo ok va bene a tutti allora da questo tilt può essere o il tilt con il round per chi non se la sente o magari per chi dice c'è poco spazio volete fare so take me up take me quindi gamba molto comoda take me e poi salve round o chi ce l'ha sviluppata tipo davanti da qui fa take me up take me higher e va con questo round va dietro there's a world not far from here dice e poi fate there's a world not far from here è un giro in arabesco ande ora quindi there's a world passo passo preparo not far from here not far from here ok questo è ah molto comodo we can dance vi prendete la gamba e fa we can dance l'allungate l'allungate in questo arabesco we can dance così in desire 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 è come se voi da su stesse raccogliendo qualcosa nel frattempo fa un round quasi invisibile fa desire questo serve questo round è come se fosse un passo normale desire so we can burn in love tonight dice questo cioè dice questo e per chi vuole fa so we can burn in love tonight invece perché dice puoi tenere lo spazio e le varie cose basta che prepara e fa burn due o tre quelli che sia in love tonight chi le vuole fare in coupé chi le vuole fare attitudine la vi lascio il la libertà di di scelta poi è normale che ognuno ci mette il proprio e da qua we can burn in love love è come se voi cadeste da questo da questo giro love tonight sono due passi tonight destra e sinistra e vediamo scrivetemi se va se va tutto bene sì sì la diretta verrà salvata nella nella pagina e tutto quanto io farei con la musica fino a qua e poi ce la balliamo un po' di volte e la rispiego la farei farei adesso vai iniziamo 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 , quindi 네요 una volta che avete fatto da qua li capite tempi Quindi fa Allora, una volta che avete fatto Il Questo Una volta che avete fatto questo Se vi vedete si è passato bene Una volta che avete fatto So we can Da qua Burn in love tonight C'è Our hearts are like Firestone E fa Our hearts Our hearts are like Our hearts c'è un blocco Our hearts are like Boom con le mani Come se è boom Se c'è qualcosa Firestone è un Trallè Da Anded down A Destra Quindi Our hearts are like Boom Firestone Boom C'è un altro Boom When they strike È un salto La seconda When they strike È Da qua dietro We feel Feel Io lo interpreto come una vibrazione della parte dei bracci Quindi We feel C'è chi lo fa semplice Feel E The love Sono dei giri I giri sono anche done Sempre Sono stracciati Con il Il Cote i piedi A terra Quindi Sono The love Così Poi c'è chi li vuole fare Con il Cote i piedi Con la gamba Ander Vuole fare Love Sparks on fly Fa Sparks On Fly E fa una rapesca Quindi è Sparks on fly Dessa a sinistra A rapesca a destra Da qua Affonda Deny of bones Deny of bones Questa cosa Tipo di Esplosione Personale Un lancio When they strike Io ho messo un pugno Ma qui è un istinto Che viene È una cosa molto Personale E Dopo questo istinto C'è We let up the world Che ve l'ho lasciato libero Quindi uno può fare Le Pirouette Si può Tirare una gamba Può fare Un tilt Quello che è Quindi Per chi Io ho messo questo We let up the world Così Poi c'è chi fa Può fare Anche chi mi fa una mano E mi trasmette È È tanto Direi di farla con la musica A pezzi Poi Chi mi scrive Scrivetemi se avete dei problemi In qualche pezzo Non avete capito qualcosa Io bevo E adesso La cattola Scriviti al canale Scriviti al canale On the dark we need to fight When we touch, you inspire Feel the change in me tonight So take me up, take me high There's a world no further in here We can dance in desire Or we can burn it off tonight Our hearts are wet And when they strike, we feel the love Sparks will fly, they ignite our bones And when they strike, we don't know the world No, scusate che leggo Non posso fare perché quello sotto mi sbatte con la scuola del rumore Vabbè, poi uno lo fa dove è meglio Gli è comodo La ripeto dall'inizio, penso lenta Poi ci possiamo divertire gli ultimi 10-10 minuti Vediamo chi c'è, se c'è qualche volontario che vuole farla E la fa in diretta Ci divertiamo perché comunque È una cosa tra È bello vedere L'emozione che magari gli ho dato io E l'emozione che gli ha dato un'altra Un'altra persona Vedere magari diverse Braccia E queste cose qua Sì, i miei amici mi stanno prendendo in giro Intanto La rifacciamo lenta Allora Da qua Parte con le Dove si stanno fatte Fa boom Boom I'm a flame You're a fire I'm the darkness Need of light When we touch You're inspire Feel the change in me Tonight Take me up Take me higher There's a world not far from here We can dance Devo la damba In desire Of we can burn In love Tonight A heart's like Boom Firestone Boom When they strike Shalom Il stato del secondo We feel The love G Sparks on fly The night of bombs When they strike When we light up The world E c'è questa parte qua Poi Vediamo La metto la musica Così ve la risentite E nel frattempo Io leggo se c'è qualche Scrivete adesso Se c'è qualche problema Così Lo vediamo I'm afraid You're a fire I'm a dark Even light When we touch You inspire Feel the change in me Tonight So take me up Take me high The world not far from here We can dance La parte finale per favore Va benissimo Firestone When they strike Intanto l'avete risentita Wendy E poi questa è la parte libera La parte finale Ok Allora Fa La ripeto dal Dal fotè Allora Da Da qui C'era il Giro La gamba Desire Burn in love E Burn in love Tonight Our hearts are alive Boom E poi c'è Firestone Boom C'è questo Si sente o non si sente Però comunque c'è questo C'è L'atterraggio Con la gamba Così Come Per la prima volta In Say Me up C'è questo atterraggio Da qui Parte Questo salto Parte il salto La seconda Quindi Questo Ok E Una volta atterrato Fa Shrine Feel Feel È una sensazione Quindi può essere anche Feel Feel Quello che è Love La canzone fa un vocalizzo Adesso Non voglio scappare Che fa Love E Voi girate Con le braccia così Con le braccia giù Basta che ci sia Questo Questo giro qui Quindi questo Cude pie Appoggiato a terra Che striscia Feel the love Sparks on fly Sparks on Fly C Salite sopra È un affondo Affondo Salgo The night Of bombs And when they strike E poi We light up the world Che è Una Una parte libera Puoi far sentire Sulla musica Il tempo Prima di Firestone Ok Ve la marco Così La faccio sentire Per bene Boom I'm a flame You're a fire On the dark Of light When we touch You inspire Feel the change In me tonight So take me up Take me high There's a world No far We can dance In desire All we can burn In love Tonight Our hearts are light Boom Firestone And when they strike We feel the love Sparks will fly They melt our bones And when they strike We love Love the world Eh Vedete Quella Quel suono di piano Parte Che fa Dun Fa Our hearts are light Boom Firestone In giro We fa Dan And when they strike C'è il salto We feel Glove Sparks will fly Deny our bones And when they strike We love The world Adesso la faccio una volta io E poi vediamo Chi Chi sono i volontari Vediamo La faccio una volta io vediamo in volontà Vai I'm a flame You're a fire On the darkly deep and bright When we touch You inspire Feel the change in me tonight So take me up Take me high There's a world No further We burn down In desire Or we can burn it All tonight Our hearts are light And find a storm And when they strike We feel the love Sparks will fly They ignite our bones And when they strike We light Of the world E questa era la parte Finale Adesso vediamo Il c'è di Dei volontari Questa cosa diverte molto Vediamo Vediamo un po' E adesso vediamo Sono delle persone che Adesso mi viene un po' la lista Vediamo Ci sta una mia amica Che è un sacco brava Quindi Io lo faccio fare Allora Sì 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 La live la salvo La salvo Vediamo Ci connettiamo Ciao Aspetta Faccio un guaio Mi senti? Sì 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 Ti sento Ciao Come? Sei imparata? Yes Ho provato Stai provato Sì Dai allora Non te la faccio fa Vai Va bene Sì sì Aspetta un attimo Vai Vai Sì 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 non fa niente dai facciamola insieme facciamo insieme va bene facciamo insieme 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 insieme facciamo insieme insieme facciamo insieme facciamo insieme insieme facciamo insieme facciamo insieme insieme facciamo insieme 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 Ma faccio io con te? Come vuoi. Faccio io? Marco, piccolo, piccolo, piccolo. Vai, vai, così se mi perdo. Allora. 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 Grazie a tutti Ragazzi ho chiamato Tre persone bestia Grazie Ciao Lu Per la lezione Un bacio Ciao Allora Se la devo rifare un'ultima volta Con la musica Scrivete La faccio un'ultima volta Poi stacchiamo la diretta e passiamo al All'intervista Vediamo Vediamo dai Vediamo se la devo rifare A posto la faccia Ok Grazie 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 So take me up, take me high, there's no hope for me We can always be in desire, come and let it go tonight Our hearts are low, find a score, and when there's strife We fear no, the sparks would fly, let it back our foe When there's strife, we love the world Ok, rifatta, aspetto i video, spero vi state divertiti E' stato un po' complicato farla sul marmo perché si scivola un bel po' Però ci vediamo nella diretta tra poco Un bacione grande Non so più che dire Grazie a tutti Un bacione, ci vediamo nella diretta che rinzerà tra qualche minuto Sul profilo di Comacchio in Danza Ci sarà Ermal e entrerò io con il mio profilo Un bacione